Perché il Consiglio di Stato è intervenuto sul tema del PEI? Il Consiglio di Stato è intervenuto perché lo scorso anno alcune associazioni avevano fatto ricorso al Tar Lazio contro il decreto interministeriale 182 che dettava nuove regole sulla redazione del PEI e anche sui processi di inclusione. Il Tar aveva dato ragione a queste associazioni tanto che il Ministero era stato costretto a dire alle scuole fermi tutti, il decreto interministeriale non è legittimo e quindi dovete fare riferimento alle vecchie regole. Quindi il nuovo PEI non c'è, dovete utilizzare ancora il vecchio modello di PEI e per quanto riguarda tutto il resto le regole sono quelle di sempre. Il Consiglio di Stato ha rigettato la sentenza del Tar perché il Tar in realtà aveva dato ragione alle associazioni dicendo in sostanza sì, questo decreto interministeriale nei fatti ha la struttura di un regolamento e i regolamenti però per essere emanati in modo legittimo devono essere fatti in un certo modo e la procedura deve essere una procedura ben precisa definita da una legge addirittura del 1988, la legge numero 400. Il Tar aveva detto che il Ministero non ha seguito le regole dovute, per esempio non ha acquisito il parere del Ministero della Sanità che avrebbe dovuto definire le regole del nuovo modello di diagnosi che è la cosiddetta ICF. E quindi il Tar aveva dato ragione ai ricorrenti. Adesso il Consiglio di Stato che è stato interpellato proprio dal Ministero dice esattamente il contrario, dice no guardate che il decreto interministeriale 182 non è un regolamento, è un normalissimo decreto, è un normalissimo atto amministrativo e quindi è di per sé legittimo. Quindi il decreto al momento attuale torna in vigore. Però pur essendo legittimo nessuno può escludere che dalla sua applicazione possano derivare delle lesioni di diritti o interessi legittimi. Per esempio questo decreto potrebbe creare delle condizioni di sfavore verso alcune categorie di alunni con disabilità oppure verso alcuni casi particolari. Allora in questo senso il decreto 182 potrà ancora essere impugnato ma non per la sua impalcatura complessiva perché questo il Consiglio di Stato lo esclude ma potrà essere impugnato in quei casi in cui dalla sua applicazione deriveranno delle lesioni di diritti o interessi nei confronti di qualche d'uno. Grazie. 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 Grazie.